Ciao ragazzi, in questo nuovo video di pesca siamo qui in Sardegna nel golfo di Oroseia, Cala Liberotto, come potete vedere. In questa giornata con un piacchino a mano abbiamo preso questi bei pesci, qui un bel sargo, una mormorina, un tordo, un altro tordo, un altro tordo ancora, altri due tordi qui, questo sciorrano, un altro sciorrano, un altro e infine una periglia. Ciao ciao, alla prossima!